I ritardi nelle operazioni di adeguamento dei fondali di accesso al molo Garibaldi potrebbero compromettere la stagione croceristica 2025. L'allarme arriva direttamente dalla società Spezia Carrara Cruisy Terminal che gestisce il molo crociere che è partecipata dalle tre principali compagnie di navigazione, cioè Costa Crociere, MSC e Royal Caribbean. Le preoccupazioni riguardano lo stato di avanzamento lavori del nuovo molo crociere su Calata Paita, la cui prima fase è stata appena avviata dall'autorità portuale. Un avvio lavori che però non ha tenuto conto della manutenzione del canale in cui transitano le navi da crociera per giungere all'accosto. Ora c'è addirittura il rischio che le navi non possono più raggiungere il molo. Una situazione che qualcuno avrebbe dovuto prevedere ma che invece è emersa solo a cose fatte. Nei giorni scorsi anche il viceministro alle infrastrutture aveva compiuto una visita al cantiere ma evidentemente nessuno gli aveva prospettato il problema che ora rischia di penalizzare fortemente il nostro porto. Le compagnie potrebbero decidere di escludere fin da subito il porto di Spezia dai loro itinerari a favore di altri scali e ben sappiamo la guerra a suon di carte bollate che fece a suo tempo Livorno per cercare di non dover rinunciare alle crociere. La città perderebbe qualcosa come 600.000 visitatori a stagione. Un business che al di là delle polemiche sui fumi delle navi porta notevoli vantaggi all'economia provinciale al punto che gli stessi commercianti hanno modificato gli orari di apertura dei negozi proprio in funzione delle crociere. Oggi tutti si domandano come sia possibile che enti pubblici se in primis l'autorità portuale non abbiano previsto la situazione che sia determinata per le crociere ma non solo. In gioco infatti ci sono pure i lavori del terzo bacino, quello del canaletto per capirci. L'inizio di questi lavori che impegneranno la Spezia Container Terminal per 230 milioni di euro rischiano il blocco perché direttamente collegati alle opere di scavo in mare. L'autorità portuale oggi affidata ad un commissario dopo le dimissioni tanto improvvise del presidente Mario Somariva al punto che qualcuno le collega alla situazione emersa oggi interviene per dire che da tempo ha avviato interlocuzione con la regione Liguria al fine di evitare il previsto livellamento dei fondali antistanti al molo Garibaldi proprio per rendere più agevole le manovre delle navi da crociera. Nell'assicurare che il progetto è già stato predisposto l'autorità sostiene di aver appreso solo recentemente che gli accumuli di materiale rappresenterebbero un impedimento alle manovre delle navi. Noi riteniamo che non si ha più il tempo di giocare allo solito scaricabarile delle responsabilità. Occorre che pur nella corsa frenetica della campagna elettorale chi di dovere faccia il possibile per evitare il disastro che si profiderebbe con il blocco delle crociere. Ma anche della mancata realizzazione del terzo bacino. Gli enti preposti invece dei soliti convegni come quelli sul porto 1, 2 eccetera devono impegnarsi per risolvere in fretta una situazione che rischia di bloccare l'attività del porto. La città è stanca dei soliti bla bla. Meno convegni e più fatti deve essere oggi l'imperativo per tutti se vogliamo difendere la nostra economia del mare.